Dopo le chiacchiere un altro dolce tipico di carnevale sono le castagnole morbidissime e golose frittelle realizzate con un impasto molto semplice da cui ricaviamo delle palline della grandezza di una castagna da cui prendono il nome ed infine dopo averle fritte in olio bollente le tuffiamo nello zucchero Vediamo subito quali sono gli ingredienti e cominciamo 200 g di farina, 50 di zucchero, 1 uovo, 6 g di lievito per dolci una bustina di vanillina, un pizzico di sale, 40 g di burro morbido un cucchiaio di liquore strega, un cucchiaino di estratto di vaniglia la buccia grattugiata di un limone, olio abbondante per friggere e 100 g di zucchero semolato per cospargere le castagnole Mettiamo insieme farina e lievito e li setacciamo e li disponiamo a fontana su un piano da lavoro aggiungiamo lo zucchero, l'uovo la buccia di un limone un cucchiaino di estratto di vaniglia il burro morbido a pezzetti il sale e il liquore e impastiamo con l'aiuto di una forchetta raccogliendo piano piano tutta la farina ci aiutiamo ancora con una spatola a mescolare bene tutti gli ingredienti fino ad impastare con le mani e otteniamo un impasto omogeneo e liscio formiamo una palla e l'avvolgiamo nella pellicola alimentare per circa mezz'ora e nel frattempo vi aspettiamo se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale attivate la campanella così sarete sempre aggiornati quando andrò a postare una nuova ricetta e se vi fa piacere condividetela con i vostri amici così anche loro potranno conoscerla e alla fine se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate al termine dei 30 minuti togliamo la pellicola e stacchiamo dei pezzetti di pasta che peseremo affinché saranno tutti uguali e dovranno pesare 10 grammi li strofiniamo tra i palmi delle mani fino a ottenere delle palline lisce l'impasto sarà leggermente unto ma così deve essere e non dobbiamo aggiungere altra farina le castagnole sono i dolcetti più facili e veloci da preparare a carnevale e hanno un cuore così tenero e goloso che si sciolgono in bocca e farle vi garantisco che ne vale davvero la pena quando le preparo sono una tira l'altra spariscono così in fretta che mi chiedono di prepararne delle altre sono davvero buonissime quando avremo realizzato tutte le palline riscaldiamo abbondante olio in una padella piccola a bordi alti così le castagnole saranno perfettamente leggere e senza unto facciamo la prova dell'olio per vedere se è arrivato a temperatura con un pezzetto di impasto se sale a galla vorrà dire che è pronto e possiamo immergere le castagnole friggiamo pochi pezzi alla volta 4-5 al massimo li giriamo con una schiumarola e facciamo attenzione che la cottura avvenga lentamente basteranno meno di 2 minuti quando sono ben dorate le scoliamo su carta assorbente e continuiamo a friggere tutte le altre quando sono pronte e intiepidite le tuffiamo nello zucchero dopo averle cosperse di zucchero le mettiamo su un bel piatto da portata e continuiamo con tutte le altre e dopo averle terminate tutte guardate che belle sono una tira l'altra e finalmente possiamo gustarle ci sciolgono in bocca sono davvero buonissime se vi è piaciuta questa ricetta replicatela anche voi e fatemi sapere cosa ne pensate io vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima ricetta ciao